Allora, portiamo da questa posizione, vado su un fianco, infilo, ginocchio, ginocchio e apro, il bacino deve essere alto, non giù, se no non ho forza sui suoi gomiti, sui suoi bicipiti, bacino alto, piedi sull'anca, adesso appena spingo su questo, lateralmente esco con il sedere, ok? Opzione A, entro con il lasso e raspo, salgo, tenendo il suo braccio, uno e armo, ok? Ok? Opzione B, qui, esco su un fianco, infilo, ginocchio, ginocchio, bacino alto, uno, il mio sedere esce, adesso quando io vado a mettere l'asso, lui chiude il gomito, non riesco a entrare, Allora adesso, lo tiro verso di me per il triangolo, utilizzo il mio ginocchio per andare a scavare dietro il suo gomito, braccio, piede sul bacino, cerco di assestare il triangolo Ipotizziamo per motivi X, non viene il triangolo, ho la possibilità di fare armlock, ipotizziamo che per qualsiasi motivo non riesco o non voglio finalizzare qui, entro sull'altro braccio, lo porto ad altezza dell'orecchio e vado a finalizzare Ok? Chiudiamo, scusami, chiudiamo con, lui sfila questo braccio, quindi non riesco a prenderglielo, tengo il colletto, da qui entro sotto, carico sopra di me Uno, cavallo, nuovamente, finalizza Ok?